E io dico, testa di cazzo, se non riuscite manco a fare i conti economici, fatti come si deve e non mettete anche i centesimi, cioè se sbagliate le virgole poi andrete a sbagliare anche su un elefante. Eppure ragazzi, io penso veramente che voi sparate minchiate, cioè questa è la verità ragazzi, perché sento sempre queste persone che mi dicono, no ma guarda, in asta adesso non è più possibile, non è più come una volta, una volta era più facile e adesso ogni volta che vado ci sono 30, 40, 50 persone, ma figurati se è così semplice, no? E dopodiché ragazzi, poi io ho detto, vabbè, mi metto a giocare questo mese, ho detto faccio a tempo perso, mi metto a fare qualche asta, io in prima persona e vedo che cosa succede, ok? Che cosa è successo poi nell'ultimo mese? È successo che sono riuscito a prendere sei appartamenti, sono riuscito ad aggiudicarmi in sei appartamenti, ripeto, non dedicando chissà quanto tempo, perché ovviamente io devo dedicare tempo a tutti i business che ho, al mercato libero, insomma a mille cose che ovviamente ho da fare, quindi tante delle cose che io faccio ovviamente vengono delegate, però ho detto, vabbè, mi metto un po' a giocare, faccio qualche asta, vediamo cosa succede, e quello che è successo, ripeto, è che sono stati questi, sono stati presi questi sei appartamenti, ho già girato qualche video dove vi ho fatto vedere anche i numeri, ok, e nello specifico avevo girato un video che avevo preso, quando ho girato il video erano cinque appartamenti, e avevo detto, vediamo come va a finire domani, perché domani devo fare un'altra asta, perché magari riesco a prendere il sesto nel giro di un mese, ed effettivamente poi è stato preso, ok? Su quei sei appartamenti praticamente il profitto previsto è, fatemi guardare alla lavagna, 168.977,60 euro, ok? Qualcuno contesta, ah, metti anche i 60 centesimi, e io dico, testa di cazzo, se non riuscite manco a fare i conti economici, fatti come si deve, e non mettete anche i centesimi, cioè se sbagliate le virgole, poi andrete a sbagliare anche su un elefante, ok? Quindi, vabbè, ragazzi, era giusto uno sfogo, no? Perché poi qualche qualche age, ah, tu metti anche i 60 centesimi, certo cazzo, cioè nel senso, quando voi fate i conti economici dovete mettere anche i centesimi, è ovvio. Ora ragazzi, vi dico per quale motivo le persone hanno questa roba qua, che dicono, ah no, ma io, cioè non si fa più niente in asta. Allora, sono anni, in realtà, che io vi dico che le persone cercano di andare in città che sono liquide, a prendere degli appartamenti che sono magari molto appettibili e sperano di prenderli in asta. Ora vi dico come stanno veramente le cose. La verità è che se voi andate a cercare appartamenti dove è facile e dove tutti li vogliono, eh, per forza troverete tanta concorrenza e troverete tante volte anche il privato che spesso fa salire addirittura più del prezzo di mercato, ok, l'appartamento. Quindi voglio fare una parentesi degli appartamenti che io sono andato a prendere adesso in questi, cioè in questo mese, così capite per quale motivo io dico sempre che è un discorso di competenze. Allora, alla base ci deve essere sicuramente la conoscenza perfetta del prezzo di mercato, ovvero io devo sapere esattamente quanto vale quell'immobile così com'è, quanto vale quell'immobile se vengono fatte delle modifiche, quindi se faccio una determinata cosa, a quanto posso rivenderlo ristrutturato e via dicendo, ok? Quindi parliamo del primo appartamento. Del primo appartamento che è via dei mille fondamentalmente, quello è un appartamento che è un bilocale, ok? Perché? Per quale motivo quell'asta, tra virgolette, non ho trovato nessuno, o meglio non proprio nessuno, eravamo in tre, di cui in realtà la gara l'ho fatta con una persona e basta, perché l'altra persona non si è neanche presentata, se ve lo state chiedendo in asta voi potete in realtà fare la vostra offerta dopo non presentarvi, ma comunque l'offerta è valida, è arrivato fino lì, cioè non potete fare più rialzi, ma comunque l'offerta è valida. Ok, per quale motivo io sono in qualche modo riuscito a prendere questo appartamento? Perché avevo delle informazioni su quell'appartamento e sono delle cose che io dico sempre, cioè questa è un'asta che ho fatto di presenza, in maniera fisica, ci sono delle strategie che se voi andate qua sul mio canale su YouTube c'è un'intera playlist dedicata alle aste dove io in realtà ho già spiegato, ho già fatto vedere una parte magari tagliata diciamo all'interno del mio corso, dove a livello strategico spiego esattamente le leve da utilizzare, la comunicazione da utilizzare, il cosa dire al momento dell'asta, le domande da fare al delegato alla vendita, qualcuno mi accusa addirittura di turbativa d'asta, ok? Ragazzi non è turbativa d'asta se io faccio una domanda al delegato alla vendita, cioè se io domando al delegato, scusi delegato, ma per liberare quell'appartamento quanto tempo ci vorrà, ok? E se il delegato mi dà una informazione quindi tempistiche molto lunghe piuttosto che non lo so, non se ne occuperà nessuno, non sarà la procedura ad occuparsene eccetera, è colpa mia? Io sto facendo turbativa d'asta? Non mi sembra, ok? Se io dico per esempio chiedo scusi delegato, ma le spese condominali a mio carico ho visto che nella perizia parlano di 9.000 euro di spese condominali, quindi quante sono? E se il delegato mi dice guardi io ho provato a chiedere all'amministratore e l'amministratore non mi ha dato delle informazioni e l'altra persona dice sì infatti anche a me mi ha detto che non poteva dare delle informazioni a nessuno e quindi qua succede con quei 9.000 euro. Se loro pensano che poi c'è da pagare quella cifra, ok? È colpa mia? È turbativa d'asta? Secondo voi? Ok? Quindi qua succede che quando io faccio aste che sono fisiche e capisco e capisco che davanti a me c'è una persona che magari non è esperta, non è preparata, ragazzi è chiaro che si possono utilizzare delle tecniche, delle strategie che poi io spiego nei corsi, ok? E la gente dice no ma quella è turbativa, no non è turbativa d'asta, ok? Quindi in quel caso per esempio, in quel caso specifico una persona non è arrivata, quindi proprio non è venuta, non si è presentata. L'altra persona che rimaneva, ho visto proprio la scena di queste persone che hanno esultato perché l'offerta presentata era valida. Ora voi capite che per uno come me, che di aste ne ha fatte migliaia, esultare perché l'offerta è valida e quindi non sono stati fatti degli errori, cioè ragazzi è chiaro che io capisco lì al momento che davanti a me c'è una persona inesperta, ok? Ed è chiaro che io utilizzo tutte le strategie che io conosco, è chiaro che io lì utilizzo tutte le leve, quindi capite perché a questo punto poi il prezzo in quel caso è partito da 28.500 e poi è arrivato solo a 32.500, proprio per quel motivo lì, perché ci sono state delle cose all'interno, ripeto non è che posso dire qua tutto perché sono cose che io dico all'interno del corso, spiego esattamente quali sono queste leve, come sfruttarle, cosa dire, cosa dire al momento giusto, cosa chiedere e via dicendo. E questa è la prima operazione, la seconda operazione invece è un appartamento dove asta telematica, ok? E mi sono ritrovato da solo, da solo, ok? Ora vi dico sono 125 metri quadri di appartamento, quello lì, ok? E ho partecipato a un'altra asta pur sapendo che il prezzo sarebbe schizzato alle stelle e mi sarei ritrovato con tanti concorrenti solo perché volevo essere presente al momento dell'asta, cioè presente in maniera telematica e capire fino a dove schizzava il prezzo, ok? Ora l'appartamento che io ho preso l'ho preso a 66.010, ok? Il prezzo minimo da offrire era 66.000. Ora appartamento di 125 metri quadri, non bombardato, l'altra asta che ho fatto solo per capire erano una tipo 60 metri quadri, 60-65, appartamento completamente bombardato, quindi la metà del mio bombardato, il mio non lo era, l'asta è arrivata a 80.000 euro, eravamo mi sembra in 17 a fare quell'asta, quindi si sono proprio ammazzati, ok? È partita tipo da 28.000, una cosa del genere, 28.000, 30.000, 30.000 mi sembra, e le persone si sono ammazzate, proprio una dietro l'altro facevano i rialzi, cioè io lì ho fatto qualche rialzo, tanto per, ma in realtà sapevo già, ripeto, che non l'avrei preso, ok? Per quale motivo, ok? Voi pensate che si sono scannati in 17, ok? O meglio in 16, perché il diciassettesimo ero io, in quell'asta e invece nella mia ero da solo, ero completamente da solo, perché avevo delle informazioni specifiche, ok? Che ripeto, sono delle cose che poi insegno nel corso, delle quali ero a conoscenza e che sapevo che potevo andare a risolvere. Una volta che fate questo, siete a posto. E questa è la seconda operazione. nella terza operazione, invece, è praticamente un appartamento di 65 metri quadri, al quale mi sono ritrovato in asta fisica completamente da solo. Perché da solo? Perché in realtà quell'appartamento lì è un bilocale, ok? È un bilocale, ci sono poi altre, tra virgolette, problematiche che possono vedere gli altri, per me è una cosa abbastanza normale, che non sto qua a dire, ma fondamentalmente il prezzo di partenza era già vicino, tra virgolette, non dico il prezzo vero di un bilocale, perché assolutamente no, ma comunque non c'era troppa differenza, ok? Quindi magari era scontato di 10-15 mila Euro rispetto a magari il prezzo di un bilocale normale, con qualche problematica. E quindi che cosa succede? Che io non l'ho valutato come bilocale, ma l'ho valutato come lo faccio diventare un trelocali, ok? Quindi in quel caso cosa succede? Che io butto giù semplicemente un muro, faccio uno spostamento, roba che non mi costa tantissimo, lo faccio diventare un trelocali, io ho finito il cinema e sapevo che visto il prezzo era molto probabile che mi sarei ritrovato magari a fare un'asta a due o a tre. E infatti ero da solo, nessuno si è presentato. E quindi questa è la terza operazione. La quarta operazione, anzi questa è la terza, la quarta operazione invece mi sono ritrovato con una persona, il prezzo di partenza mi sembra 37 e qualcosa, 37 e mezzo, l'ho preso a 39,7, stiamo parlando di, vado a memoria, 110-115 metri quadri di appartamento più un box, ok? Anche lì ci sono delle situazioni di cui ero a conoscenza, sapevo che poteva non venire tanta gente proprio per certe problematiche dinamiche che c'erano all'interno tra virgolette dell'appartamento, ma che io posso risolvere tranquillamente. E infatti quello lì era tipo mi sembra l'ottavo esperimento. Cioè non so se riuscite a capire, vuol dire che la casa è andata in asta per otto volte, quindi nessuno prima è riuscito a vendere quell'appartamento lì, nessuno l'ha voluto. Infatti c'è anche una perizia, il valore di perizia di quell'appartamento è se non erro 180.000 o 200.000 euro, quindi provate a immaginare quello che vuol dire. E a quel punto lì mi sono ritrovato con una persona sola, anche lì a sta fisica si utilizzano, come ho detto prima, anche certe strategie e quindi sono riuscito anche lì a prendermi l'appartamento. L'altro appartamento invece è uguale al terzo, stessa identica cosa. Ci sono delle problematiche, problematiche per me risolvibili, le persone l'hanno valutato come bilocale, per me valutato come tre locali. Perché? Perché posso tirar giù un muro, fare lo spostamento e farlo diventare un tre locali e quindi prendere più valore. L'ultima operazione invece è un'operazione che ho fatto venerdì, venerdì scorso, a sta telematica e ci siamo ritrovati in quattro, eravamo in quattro e anche lì ci sono delle problematiche tecnicamente, cioè qualcuno può pensare che sono grosse, perché sono delle problematiche proprio a livello di, cioè la casa non è conforme fondamentalmente, ok? E quindi le persone dicono, ah ma cazzo, ma qua non si riesce a sanare sta roba qua, perché addirittura si vedono 20 e passa mila euro, 20 mila euro e qualcosa, per appunto andare a risanare quelle problematiche sempre che si riesca a risanare, secondo loro, ok? Ora vi dico una cosa, perché è molto interessante, perché anche l'appartamento che ho preso a Milano a 28.500 euro, un bilocale di 50 metri quadri, anche lì secondo queste persone non si poteva sanare, non si può fare questo, però l'esperienza mi insegna che sono delle cose che io ho già tra virgolette sistemato in passato con più operazioni, con tante operazioni. Quante volte quando io ho fatto questi ragionamenti ho sbagliato, non sono riuscito a sistemare quelle problematiche? Cioè, ragazzi, lo so che qualcuno può dare fastidio, ma la verità è che non è mai successo, cioè non mi è mai capitato di fare un'operazione dove ci sono determinate, tra virgolette, problematiche e dopo non riuscire a sistemarle. Le ho sempre sistemate, ok? È chiaro che dovete sapere quello che state facendo, cioè le persone tante volte mi dicono, no ma guarda io le aste le so già fare, perché loro pensano che il compilare la domanda sia tutto, ok? Poi vedo un sacco di persone che magari partecipano in un'asta telematica e le segano, quindi neanche partecipano perché hanno presentato male l'offerta. Vedo delle persone che magari provano a fare le aste e non vincono mai. Secondo voi, se queste persone sanno già come si fa, per quale motivo non riescono a fare operazioni quando magari qualcuno riesce a farne, cioè a decine, magari nel giro di un mese, qualcuno che è capace, cioè il tutto ragazzi sta effettivamente nel cosa sapete, ok? In ogni caso stasera alle ore 19 verrà lanciato tra virgolette per solo 50 persone il mio corso sulle aste, in realtà sono tre, perché c'è il corso sulle aste fisiche fatte di presenza, sulle aste telematiche un altro corso, è un corso per attirare investitori che investono in queste operazioni in asta, ok? Questo programma e questo bundle, questo pacchetto di programmi l'ho sempre venduto quando è stato aperto a un minimo di 2.500 euro e per questa volta ho deciso di fare un'offerta a 997 euro, ok? A 997 euro, a disposizione ci sono solo 50 posti, quindi un'ora prima verrà mandata a quelli che si sono iscritti nella lista d'attesa, un'ora prima verrà inviato i link, ok? Calcolate che in questo momento che io sto girando questo video ci sono più di 50 persone in lista d'attesa, quindi sicuramente i posti verranno esauriti velocemente. In ogni caso l'offerta chiuderà entro un giorno, ok? Ma comunque al raggiungimento dei 50 posti, quindi vuol dire che potrebbero, potrebbe non essere visibile neanche per un giorno e in ogni caso chi non è iscritto nella lista d'attesa, cioè riceverà tra virgolette i link probabilmente, ok? Dopo tutti gli altri, quindi se siete interessati veramente a imparare come si fanno le aste, come si guadagnano soldi con le aste, vi consiglio vivamente di prendere assolutamente in considerazione il fatto di acquistare questo pacchetto, anche perché una volta che verrà chiuso non lo riaprirò più, cioè nel senso verrà riaperto probabilmente tra un anno, un anno e mezzo, adesso non lo so, ma sicuramente non velocemente e comunque non a un prezzo inferiore ai 2.500 euro. Quindi ragazzi, se volete fare la grana veramente con le aste immobiliari, vi lascio qua sotto il link e iscrivetevi alla lista d'attesa e fate i soldi con le aste.